Ma Ferdi, domani che fai? Domani, domani... ma domani quando? 18.30 Ah, dopo il lavoro, vado a casa, che vuoi fare? Non hai niente da fare? No, perché? Non giocare a calcio A giocare? Eh, sostituisci il nostro collega che sia infortunato, fai una partitella Eh, ma... non lo so Luca, non ho l'attrezzatura, che vedi, quando non ci hai le scarpe con i chiodi Eh, no, 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 è tra minici, poi comunque il campo è... liscio È liscio, sì, sì, ti metti un paio di scarpe da ginnastica, tranquillo Non ce l'ho Che cosa? Le scarpe da ginnastica non ce l'ho Non c'hai le scarpe da ginnastica? No Perché è obbligatorio, ha divisa Ma non lo capisci Eh, si ruppero, non le ho ricomprate Allora, quanto porti? 42 Perfetto, le mie, ti resta un paio delle mie Eh, va bene 18.30 18.30 Andiamo assieme, io vengo con te Eh, certo Poi, tra l'altro, mi devi pure spiegare un po' quel parecchio che... le regole, una rinfrescata Le regole? Il regolamento, le regole del gioco Ah, no, no, eh, tra amici Eh, vabbè, ma io proprio, cioè, non mi ricordo bene, facevo il figlio Siamo 11 noi, 11 noi, 10 a terra, nel senso che giocano, e un portiere ciascuno Mi facci portiere? No E noi dobbiamo mandare la palla della porta avversaria Vabbè, mandare come? Come la devo mandare sta palla? La palla? Eh La raccomandata La raccomandata? Ma dai, veramente Con i piedi, Fertina, come ti manda? Con i piedi? Con le mani no Con le mani no, con la testa, con... Con la testa Con la testa Ma cosa si fa? Con la testa Ti prendo per i piedi e ti urto contro la palla Ma non hai mai visto una partita di calcio? Mai Come no? Dal Barbieri Qualche volta dal Barbieri Quando andavo dal Barbieri Non hai mai giocato a calcio? No, ho giocato Come no? Ho giocato l'ultima volta, però sai quando è stato? 30 anni fa 30 anni fa? 30 anni fa 30 anni fa 30 anni fa E quando? Beh, facciamo questa partita maschi contro femmine Tu sei, tu sei di maschi Sì, tu sei di maschi Ok E vinciste? Vincemmo, sì sì, vincemmo Non segniamo tutti quanti della squadra Lame 10 Ah 11 a 0 9 a 1 E non mi? Tu non segnesti? Sì, come? Segnai chi? Un autocontro Vengo a prenderti alle 7 e mezza Non farmi aspettare E- I'm dying on